e che la faccio riccare ovviamente non ho parlato cioè l'abbiamo fatto sesso con i dobi è buona è molto simile a altri energy drink però è buona non c'ha neanche il green pass infatti non si chiama il mcdonald a mangiare che è no vax quando c'era lui che si trova mussolini c'è la finanza cagazzi comunque abbiamo il telefono di prisa qua abbiamo il potere di guardare tutte le foto i carabinieri di luce l'hanno arrestato ritenuto responsabile dei reati di atti persecutori e diffusione di immagini a contenuto sessualmente esplicito no l'ha messo in bocca raga non ho usato le scarpe di prisa io non c'ho avuto ho fatto pure caviti va bene ah no 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 ho avuto ha tentato ha tentato eh tira un pugno a casa per saperti vedere ma dai qua se metti da un pugno poi almeno sento tipo che è fatto dai vabbè dai oh occhio ai legni aiuto c'è tensione sensuale ragazzi c'è una forte carica sensuale tolgo più il mio telefono ora si fanno male io non ho voglia di passare la giornata allo spino ha perso no questa qui è un'altra cosa ragazzi mi stava mettendo la mano dove non doveva mettere a Kevin non so se l'avete visto che avete fatto il bello oggi durante la giornata abbiamo fatto sesso con i dobi tieni un attimo che mi leggo i capelli aspetta che andiamo in questo passo carrabile come se l'avete visto ha provato a mettere il mio braccio intorno a lei no illegale cosa lo fa ma l'hai fatto tu io volevo aspettate che non siamo ubriachi che semplicemente siamo molto felici di essere qua oh qua qualcuno va a trombare non può essere trombano oh era tutto appannato stavano trombando sicuro ma sicuro a 100% c'erano 100% bugozzi 100% bugozzi stavano facendo sexy con le doper che schifo il pene che non è mio ahhh 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 ma chi fa il montaggio di tutto? il nostro caro Joe beviamo, ci rimangiamo e picchiamo la gente non è vero due piedi? due piedi cioè per tutti i feticisti ragazzi è arrivato cactus hanno messo il red carpet ragazzi il cento coq sta fischendo sul fiume di valeggio sul mincio questa è la bellissima macchina di sorella bisognerebbe annusare tutto non sappiamo come è stato utilizzato questo te mi coglioni Genshin quando c'ho content e quando lo faccio la mattina e perché c'è i minorenni che guardano i live faccio finire se il pinz un secondo vediamo l'imitazione è proprio bestemmia però il pinz questa la domanda per te i pinz c'è figa lì tutti i cazzi guarda cioè c'ho addirittura addirittura i cazzi li ho presi da fuori li ho portati da un altro stato ho capito guarda che ho dato un pugno a luca luca com'è il mio pugno eh devi ringraziare dio che non te l'abbia restituito però magari le tazze sono se c'è bisogno se no assolutamente non pagare le tazze non pagare per il 5 per cento di sconto del prossimo battesimo esatto cerimonia fotografie sai cazzo che devi pagare rica fa bove no punto esclamativo cristo no perché proprio è un'altra che è stato che è stato che è stato che è stato però punto esclamativo vigo punto esclamativo energy poi ti serve che voi siete un uomo più o no potete essere utilizzato che voi siete un uomo più o no che voi siete un uomo più o no ah perché cucina per noi fa una bellissima carbonara con il sale e anche un happy ending dopo perché c'è la seghina dopo la carbonara tocca per forza e poi con questo noi cerchiamo la figa è giù la candela la candela non ti sentiamo non ti sentiamo fin si è mutato ma c'è un attimo lap tu è lap tu lap tu non lap tu Quello è l'laptop Lapsus Ho bevuto tutto, niente rutto Facciamo pure rima Facciamo un nuovo pezzo Guarda fratti, voglio bene Facciamo un sacco di cose insieme Ma per la musica per favore Non ci credo Non ci devi mettere i soldi in bocca Che schifo Ma avrò preso cose peggiori in bocca Ma che me ne frega Sì, infatti posso picchiare Perché mi stai a tenerla lì in bocca La sta pippando Posso fare una cosa, un secondo? La musica di... Però basta il volito, mi stai uccidendo E dieci, puttana No Vico Foodbox è un sito web Che vende prodotti principalmente italiani Punto esclamativo Vico Codice sconto Cactus 5 Cactus 5 è lo sconto Sarà lì di Anna e Stefania Izzo E quindi tanta roba Stefania Chiamami Grazie per aver visto il video Iscrivete a Bumogi Stagiosus YouTube